Ciao a tutti ragazzi per questo nuovo video Oggi faremo 1v1 In box Contro Alessandro che ho conosciuto Quindi qua Alessandro Che faremo 1v1 Di sicuro vincerà lui Però Bella Entriamo E' una box Allora Si arriverà a 10 Adesso vediamo chi riesce a vincere A meno questo lo so Eh so pure caduto Io parto già bene No però non sto male 66 No però però spamming no Eh no devo distruggire i muri Eh prima sono morto Mi è proprio laserato La forza dello spamming Stai Oh No bro Io lo sapevo perché Dov'è un po' più bello Va bene Abbiamo vinto solo i muri No no hai vinto il primo round Allora vediamo Vabbè vengo anche agli altri Anche agli altri 10 Non si è Ho detto adesso che mi riesco a muovere Mi sono innamorato Ho ancora chiuscito Allora vediamo 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 Mario però boh eh adesso avrà una spamma eh bro perchè sennò veramente voglio che devi spaccare i muri però no bro no bro no bro 2 1 ah non mi riscaldo comunque l'inchiuso vabbè potremmo essere a 15 vai ok a 15 ehm iscrivetevi ragazzi mi raccomando eh sennò io guarda bro se no non fai soldi ecco eh lo so povero però aspetta un po' di due parole così oh ma io te vieni madò ma quanta vita ma quanta vita hai ah 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 bravo so forte aspetta 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 è entrato un amico nelle party non so nemmeno perchè però giochiamo comunque siamo siamo non so nemmeno sì in certo parte mi sentite allora ragazzi ora questo è riapriamo un mix un nemico cioè il mio compagno di classe no non un nemico bella bro stiamo stiamo 4 a 1 mi sembra sì 4 a 1 adesso qua ti sto proprio sciogliendo eh sì sì vabbè ma solo in box fight eh no infatti libero ti ammazzo è morto ma ciao 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 cosa eh no il canale non è ho giusto capì ah bro però tu spammi troppo eh vabbè però c'era il canale dopo ho voluto far niente su a 4 a 2 se io metterà lì no va bene va bene va bene posso recuperare no tu devi recuperare in realtà rega eh 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 ragazzi eh se volete bene a tarallino fatelo arrivare fatelo arrivare a vabbè 100 like condividete tutti ai vostri amici e dite di iscriversi e mettere like uh pure perché gioco da da pochissimo a fortnite capitolo 2 però dettagli sono sempre dettagli adesso allora gioca dalla season 3 non mi riesce a battere bro non so nemmeno perché vabbè oh guarda ciao 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 bro ma come cacchio spammi bro mi sono abbattissimo mi hai fatto arrappiare eh ma in modo la mando però è una fermona via carcai no basta spammare lo spammi lo spammi quanto è bello ciao oh regà guardate mi sono sottrollando avete visto perché non mi è modificato bro ma già dici fan fanini allora io ero a te tengo 0 ma prendete in giro no ho finito i materiali lo sapevo con te finisco i materiali madonna mia oh regà ma ti sto trovando troppo facile è proprio è tu spam è spam spam mi segna cioè solo per la distruzione se ti devo dire aspetta a me dai posso aspettare gabry può diventare un amico su fortnite aspetta mando un attimo la richiesta non c'è adesso si è scritta non accetti non accetti richiesti scottare scottare faccio così primo kg alessandro aspetta no non vale oh e dove fai non vale guarda che mi scordi non vale non lo posso dire che sei proprio un hub ma non è vero ma non è vero ma non è vero eh angelo ah 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 no guarda in uccidere ma pavola questo ma spama troppo bro spama troppo ma io ti voglio eh termina la partita no 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 si termina termina bro 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 allora mi dispiace ma dobbiamo è successo un attimo un casino dobbiamo entrare un altro player per vedere se è forte è forte adesso bello forte si bello forte è forte ovviamente sono più forte io certo mica è più forte lui no mica con 20 bomber no ma sono pure io non c'è bisogno di terminare ma lui entra direttamente però eh bro vediamo se funziona no mica lui ha 20 bomber solo di squad no eh bro ma non entra è entrato è entrato guarda agle queen no sto arriva in queen no è male però che ti spami no ma prima mica spami pure tu no perché se spami no è meglio perché vale proprio un botto no 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 ma ti devo vendicare no ma ti devo vendicare è tipo bianco ma è una mila di cacchia 100 100 100 100 aiuto 100 100 Gabriele è il mio inizio Gabriele guarda che io gioco Sì da quando? Da capitolo 2 Capito? Ale ci avevamo detto mezz'ora fa di staccare A parte che è pronto E poi ti devi fare la doccia E dopo gioco allora No no 5 Ah mi fa questo bel attore Lo faccio curare Lo faccio curare perché fa pena No no 151 è diverso No è un ipodipo Eh infatti noi ci crediamo Sì sì No bro sono morto Guarda per farlo curare Cioè non mi pagano nemmeno Eh ma Prova adesso se te lo devo dirgli spammi un po' troppo Oh 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 Eh hai fatto un HP Oh Bella bro Andiamo dopo in un'altra pezza Noi voglio fare uno con Alessandro Uno su uno così tanto per giocare Ok Ma io con tu dire dobbiamo fare Guarda Ale Guarda che la vince pure Tra da 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 Ma 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 Ok 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 Io ci sto Ah fa due piedi Ah no Non lo puscio proprio Ah 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 Ok Eh Eh bravo Regà comunque io devo si carica Quando possiamo pagare lo disfattiamo Bella regà ciao No mi sono buggato Anche io coscio No 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 bro se mi devo pure bloccare Fai mi cedere No bro Mi sono pagato tutta la scala E non fa niente Voglio fare uno più uno con Alessandro Perché Ma perché Alessandro è uscito 25 Il mio amico da mobile Quello che ha giocato pure Alessandro Il suo record è sempre stato 36 Bella Bella Ok aspetta Allora che devo cacere E ancora mi devo riscaldare Non sa tu C'è una Ma cosa fai io all'80 Dai Perché se già iniziamo a giocare Perché nemmeno Guarda che nemmeno io sono riscaldato 80 Si Ah ma io so perché Il suo record di kill Perché 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 tu Visto che hai iniziato a giocare Tanta Isola Non è vero bro Perché io In coppie ce l'ho proprio tante No di kill Di vittorie Perché giocavo con Quello mio amico da mobile Bro Una bestia Fatelo dito Alessandro Mi sono incattrato Guarda che Non vinci Che ti sconetti Dovrà Alessandro E' proprio uno spammonio No What? Oh no Madonna mia Tu mi vedevi il braccio Andiamo in duo Andiamo in duo Ok In coppie Si si andiamo a coppia Io gioco pochissimi punti in arena Perché se io Perché se io gioco subito in creativo Ma non faccio delle partite in bottino Sono tipo scarto Come una pera Vabbè non ti preoccupa Però io Guarda che ho pochi punti No Succo di pera Alla mia destra Non lo so Comunque io Nell'arena Non l'ho mai fatta Sai perché? Perché io Visto che io Giocavo sempre coppie Singolo Ma in arena Però ho pochissimi punti Secondo io Oh No Devo essere il leader Perché se no Non ti scarta la partita Perché ho troppo pochi punti No Andami in contrario Deve essere il leader Quello con un punto Metti punto per sfizio Vedete se possiamo andare Io ho 60 punti Perché non ci gioco mai Bru Io non mi provo mai Infatti non puoi Perché devo essere il leader Io Quello con un punto Ok Sessanta Ma io ho pochissimi Perché non ci gioco mai Ma tu quanti punti hai? Quanti punti hai?